a tutti gente benvenuti in un nuovo video oggi finalmente ho ripreso la bici e sto pedalando in salita vado a vedere se sono ancora capace a scendere, spero proprio di sì, a salire non più perché si scivola con le fenomenali mie gomme faccio una pedalata e scendo di 3 metri indietro però nonostante questo ho fatto un upgrade gigante ho cambiato lo scotch del mio rebound e vediamo come funziona secondo me farà migliorare la mia tecnica di 300 volte comunque saliamo e vediamo cosa succede qua che schifo, ho lavato la bici ieri comunque speriamo che la discesa sia molto più bella di questo terreno perché non tengo dritto la bici in cima devo dire che Buon appetito! Grazie Oh 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 Arriva Ragazzi Mi sa che macchina così mia madre mi uccide Ok Riproviamo Andiamo Non tiene niente Non avete idea Non tengo niente queste gomme Niente Lunciamoci a questo E' vero Non è possibile 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 Facciatelo lo stesso Ma scrivete nei commenti cosa non vi è piaciuto Cos'è che si può migliorare Iscrivetevi al canale Condividetelo in giro Basta Ci vediamo alla prossima Ciao gente Non è possibile Non è possibile Non è possibile Non è possibile